Mancano circa 4 giorni all'8 settembre 2012 e per me l'8 settembre è una data davvero molto importante, molto attesa perché sto per tornare a casa, finalmente e dopo circa un anno sto per tornare all'Old River Park in mezzo a tutti voi, i miei amici napoletani, casertani e campani quegli amici che mi hanno sempre supportato dall'inizio e che continuano a farlo e che mi hanno dato la possibilità di poter essere qui ora a parlarvi e per me non ci sono parole per descrivere quanto io vi sia grato e quanto vi adori a tutti voi e davvero non vedo l'ora di rivedervi e di poter emozionarmi di nuovo con voi in quel bosco che a noi ci piace tanto ci vediamo sabato, ci sarà Dave Clark e anche Antonio Pepe quindi spero davvero di vedervi tutti lì come sempre e grazie, grazie ancora per tutto quello che fate per me e per tutto l'amore che dimostrate vi devo tanto sono un po' emozionato a dirvelo ma davvero vi porto tutti nel cuore forza Napoli, forza la Teccona Napoletana, forza Italia e grazie, ci vediamo sabato International Talent e niente non ho più parole da dirvi, grazie